Lui arrivava dalla panchina del Lille e quello che gli abbiamo insegnato, io gli dicevo sempre, tu stai giocando per il tuo Instagram, perché metti dei video bellissimi, con dribbling, poi due gol a stagione, tre gol a stagione, tre assist, non va bene, i numeri devono essere diversi. E uno così talentuoso, per il discorso che facevamo prima, perché ha bisogno di lavorare come gli altri, invece è il contrario. E proprio perché ha talento che deve lavorare più degli altri. E' così.